musica 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 andiamo tarca della donazione guarda vediamo qua cosa fanno posso vedere no cimento che si sta asciugando non ci posso scrivere sopra qualcosa tipo buzzi no eh lì c'è un totem volantino del gruppo cos'è che c'è scritto ah nulla che mi interessa la religione non fa per me parliamo grazie 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 per provare ma scoprire l'esterno scoprire l'esterno scoprire l'esterno scoprire l'esterno ma devo fare un lavoretto e sono qui per la tempesta teniamo tutto nascosto mi fanno le spie agente del KGB sì lo so non è veramente mia cosa ho spero che sia una show che che sono la gestione oh credo che ho capito che meglio sinceramente il show è davvero buono è vero sicuramente è la cosa mi interessa la cosa mi interessa ok mi interessa mi interessa mi interessa è come Hayden è molto assicurante ma quando si mette la città è davvero molto e Nathan Caliban città 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 sì buono 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 magari ci vediamo oh hey volevo chiederti qualcosa sentiamo ho pensato fare un movimento su Rachel ma non se voi stessi fare un movimento fare un movimento rivelazioni scomode rivelazioni scomode o magari tue ma se ti senti comforza mi ci devo pensare su pensi che noi due stiamo insieme è single credo almeno spero ciò 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 mi sarebbe piaciuto anche a me provarci però vabbè il castello va bene ciao 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 tanto voglio vedere se posso fare dei graffiti in giro perché se non ricordo male c'era un easter egg qui sull'albero con un incisione Evan chi è il professore? il professore ah no quello che fa le foto cosa stai facendo qui? non dovresti essere a casa pensare sull'esercizio di decisioni questionabili ragazzi perché sei sbagliato di decisioni questionabili mi offende quando l'intelligenza è costata esatto wow Evan sembra veramente ridicoloso dai non diciamo nulla ma la fa quella foto o no? oh Mi sa che avevi ragioni, dovresti farti degli amici Guarda, facciamo questo Perché cos'hai, paura che ti sospendano? Comunque ragazzi, il bello di questo gioco è che si può esplorare, iniziare a parlare Magari se si parla con le persone Si scoprono nuove informazioni Lì c'è ancora l'incendio che sta andando Vediamo se con il tipo degli scogliatoli ci posso parlare Statuetta Buon lavoro, Samuel E' un po' intellettuale, Samuel La teoria dei caos, De Bellocivili, Inis Corvusque Corvusque, sì, Corvusque Ho detto altra volta la stessa cosa, però vabbè Niente, non dice gli autori Parliamoci, dai Sentiamo cosa ci dice Mister Scogliatolo Il credo, Samuel? Siamo qui? Tu stai lavorando? Sempre, Chloe Price Non pensavo che non sarebbe volto a questi halli allo lato così pronto Ah ah, non mi ne ho Mi sento che non ci sono i libri di Blackwell che ti è chiesto Ah ah, cosa? Tu sei qui per qualcuno Un'azognita chi, sì? Devo andare Non devi sapere nulla Via, ciao, vattene Ciao, ciao, ciao Vediamo allora Se entro dalla porta principale secondo me succede un casino, no? Vediamo se riesco a entrare da questa Non fare caso a me Devo distrarlo in qualche modo Vediamo Vediamo Andiamo Dai, parliamo di Drew Dai, diciamogli la verità così magari Vediamo, guardiamo a Drew North e vediamo solo l'atleta, ma è più di quello È? È un grande cuore che ha Con molto amore e non c'è room per l'amore Ho sempre pensato che era un tipo di bambino Può essere anche quello Non c'è solo una cosa Parliamo di Elliot Quindi Eh Che cosa è per Elliot Hampton? Hai visto lui recentemente? Io solo vedo quello che Elliot mi vuole vedere Ok Un po' Posso vedere due cose che le persone vogliono vedere E quello che vogliono Per mantenere Cos'è che vogliono vedere Cos'è che voglio vendere 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 Rachel E' un pazzo che si droga secondo me E' un personaggio molto emblematico secondo me, è curioso E' un uomo curioso Ok, così almeno Mi faccio scappare l'uccellino? Si Scusatemi ragazzi ma Mi sono già raffreddato Maddonna me Se si levasse, vediamo Lo spavento un'altra volta Ma Ma Fa il giro del loca? Vediamo Dai vattene, ciao Sparisci Ma quanto cazzo di semi ci sono in giro? Vediamo Vattene, ciao Vattene sui totem Via, sparisci Gli ho fatto uno scherzo Perfetto Vattene sui totem Vattene sui totem No eh Stronzo Comunque Nessuno mi vede Steph sta facendo i compiti Lui fa le foto Vattene sui totem Ok Ora devo aspettare per Samuel Per turnare il... That works Andiamo su Pavoro Samuel però Gli roviniamo al lavoro Beh, questo qua non ci fa domande Perché c'era Rachel lì vicino, eh? Andiamo, vai, forza Andiamo a prendere le chiavi A fare il graffito sulla porta Facciamo un bel graffito Scoglietto l'ho dispiaciuto Così almeno capisce che mi dispiace averlo fatto Che simpatico Ho preso anche un altro trofeo Prendiamo le chiavi Spero di non metterlo nei casini Perché povero Samuel Non è colpa sua Entriamo nel dormitorio Cioè io ho rubato le chiavi Per niente Sono venuto a trovare un amico Sì sono venuto a trovare un amico Entro lo stesso Sfidelo a Quinza di fallout Vediamo se ci riesco, eh? Perché ogni volta non ci riesco Tipo la sfida in suorenza con il Con il presidenza non ha funzionato Cosa è da donna? Ma cosa è sporca, cazze miei Cosa è da donna Cosa è da donna? Cosa significa business, Skip Come in... Il mio utero? Ho bisogno di usare il ruolo Gladi che hai chiesto Che palle, Skip? No, 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 è il mio lavoro di chiesto, Chloe Che palle, Skip? Così per dare il lavoro Il tuo lavoro è inquietante Che palle, Skip? Non è bello, Skip Non hai capito, Skip Non hai capito, right? No, ha vinto lui Chloe Chloe, ho proprio un sentimento di che sei... Cosa... Cosa... Hai parlato con me per mettere in la lavata di domani E poi hai chiesto il tutto il luogo Cosa? Non, io... Ah... 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 Eh... Non è che ho fatto Non ho fatto Wiles mi rincava per questo Uh... Time per andare O cosa? Tu cosa fai, Skip? Cos'è se siate a prendere me fuori di questo campus Sì, continui ad entrare. Faccio quello che vuoi, Chloe. Non mi vuole sembrare a Shaggy. Ok, è il momento di trovare la ruota di Drew. Grazie.